Molto bene Salve a tutti ragazzi e ragazze Bentornati Quest'oggi si gioca Una cosa di modo speciale Da mezza squadra E si gioca in split screen Due contro due Com'è qua? Abbiamo Luca L'altra parte abbiamo Diego Il culede Venì Lo zio Noi prendiamo S.A.S S.A.S S.A.S.I S.A.S.I Buono Io sono quello sotto Luca quello sopra E andiamo a spaccare Molto i termini Ehm Quassù Quella per esempio O anche quella Oppure C'è la prima Quella lì Ma l'hai tolta tu Non c'era da Ah che ne era un'altra Però l'altra Ok A posto Ma bella Bacca Dì Voi Voi Lozeka Voi Non c'era Ehm Oh Dio Fai giù la dietro Ehm S.A.S Ci sono troppi cavi qua, serve da metterci una foto. Radar Brigade. Fanno già le tattiche. Non c'è nessuno. Sono tutti dentro con la stanzetta lì. Giù a sinistra. Tieni, tieni lì. Qui è dentro? Stai giù la gradata stanzetta! Cosa? Cazzo sono? Non metti se ti dico. È uno mio. Ma che c'è fuoco? C'è fuoco amico. Perché hai spavato? Eh, sono là dietro. Dì da dove? Da dove sei uscita? Scusa. Madonna, ho fatto tempo frenare. Stiamo facendo schifissimo. Ma che c'è fuoco la mia, sai? Sì. Ci stava già un po' meno di grilletta. No? Oddio. C'è un po' detto? Dio. Ti ha preso anche. Giusto. Che bellezza sono. Cosa? 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 Prendolo? Cosa? 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 E' un problema di strumento. 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 Qual è entrato? Niente. Non c'è molto, anche l'altro. Noi sa che viene dietro l'altro. Guarda dietro. Venga subito. Venga subito. Venga subito. Uno sotto l'altro dietro. Dove andavamo giù prima. Guarda lì. L'altro invece qua sotto l'ho visto passare. Che cazzo è andato? E' un problema di strumento. E' un problema di strumento. Non è leggero. No. Così. D'aggare, d'aggare. Grandissimo. D'altro dietro. Stava andando su dall'entrata. Dall'entrata principale. Quella lì esatto. Stava salendo da lì. Non so se... Buon preso. Ho cercato ancora. Cidilo, cidilo. Vici morto, mio. Ufff. Allora... Non ciò parliamo. Cosa va andando cercando? Viva cazzo. Dai che stava recuperando. Dai, viva cazzo. Sono... Ehi Diego dove scappi? Senti come fanno i tattici no? Tei invece a squadra mi caccio che distruggi un po' di azione ecco sono sempre lì l'ingresso è sempre la stessa parte Mai Sono un po' vinculato Luca Perchè c'è uno qua che ho un joystick che fa Almeno il problema se prendiamo uno di i tuoi joystick perchè il mio è un po' Si? Si Perfetto allora si smoveranno la tappata Nooo Eh l'entrata tutti e due Si? Si Eccolo lì Ma che c'è la crivo? Hai salito? No no c'è lì Il mio cane ha buttato i muri Si ma che nel muro qua lì del cemento armato Dio buono le abbiamo muette in casa sua lì e poi Ehi si quale festeglie per favore dobbiamo iniziare la vera non mi non vedo nessuno ancora Luca e tu? niente a me a voi tu non mi l'ho preso tu che spari si è sbagliata devo cambiarla ah ma c'era una clima merda sono su comunque nella sala principale su l'altra scala sono sulle scale 5 quanto si arrivava? 5.7500? 5.7500 per chi mi cambi arma da solo mamma mia che mamma mia quanto ho dovuto rinca ah c'è anche un radar lì nooo no 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 non è vero sono scosto Diego si è possibile mamma mia ma dai sono da dietro dietro ah no sono da dietro guarda gli schermetti non avete lo avete luavi? no adesso no non si è da più non si è da più si si è da più si è da più ma va? no no dov'è dov'è? dove eravamo prima l'altro l'ho vista l'ho vista l'ho vista un po' l'ho vista un po' l'ho fatto che hanno alzato malissimo allora ecco dietro non so dove siano eh se volano l'ho vista un po' utile fare zero non so se... La CR? Di chi è la CR? Weng! Troppo tardi, dietro l'angolo, c'è una roba tattica quella. Oh puttana! Dio volo! Sono sulle scale mobili, non quelle centrali, quelle in fondo là. No ma perchè mi cambiarla? Porco cane, ogni volta che schiazzo di cose per bastarsi mi cambiarla! Ehi, va, vieni! Ehi, va, vieni! Ehi, va, vieni! Ehi, va, vieni! Un gisturia! Ma ma mie che lento! Che era quello lì? No, vabbè, vabbè, vabbè! Ehi, vabbè, vabbè! Come ho visto! No, era lì! Ma su! Ehi, cambiarla di nuovo! Ma no! Ehi, vabbè! Ehi, va, vabbè! Sarà per un'altra volta! Eh, vabbè, non vedremo niente! Solo bianco c'era! Solo bianco! Ehi, vabbè! Ma porca puttana! Ehi, vabbè! Ho fatto proprio i ragazzi avanti! Si, sono andato dietro un po' la casa! Eh, ovvio che ce ne vanno via! E sto anche sbagliando la grande! Mettemi il giro! Ma va, va, va! Il giro è poco di traverso! Impossibile! Ma basta essere usati mezzi pesanti! Il po'! Non mi cambiano! Non mi cambiano! Sì, cazzo, ne ho! L'uomo mia! Guarda! Ma io non è possibile, giuro! Di chi? Ah sì! Luca qua bisogna vedere di più Ma no, sì dai Questo voglio vedere No, dovresti guardare il mio schermetto Ti ho mirato solo in testa Ti ho mirato Ma è quanto mai perché mi hai visto Dove ti ho mirato Non so Non so Eh, vicino all'entrata Lì, vicino all'entrata Lì, vicino all'entrata Qua Porco Dio No, no, sono a destra Tu sei l'entrata Merda, ti ho cercato Ma siamo grandissimi Sto giocando proprio Ma grandi Eh, comunque Guarda, io ne ho fanno Manca la nicota Madonna, mio Dio Ciao E mi uccide attraverso i muri Mi uccide attraverso i muri Ma non è vero 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 E' un grandissimo Capri e i golbi E' un altro dov'è? Sì, sì, sono nella stanzetta Dei pittori Lì, esatto Grazie Grazie Grandissimo Luca Mamma mia È un grandissimo entiatore questo d il Non si muoveva più. Eh. Siccolina. Dov'è? Ah ok. No, 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 sono la titra, la titra. Si, 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 si. Eh, sono in round 2. Stavo molto scherzato. Di lungissima. Però poi ci sta una round, Luca. Mi ha messo l'escalamento. Adesso no, violenta troppo. La prima sembra del permette. La. Faccio da dentro. Mi ha ucciso. Ti muovo. Ti muovo, ti muovo. Ti muovo, 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 ti muovo. Ti muovo, ti muovo. Ti muovo, ti muovo, ti muovo. Ti muovo, ti muovo. Eh, ma io e Luca abbiamo scaldato. Questo qua non merito. Luca ne ha visto uno? Eh, io ho deciso. E che ho preso di bello? Poi c'è un'altra. Poi c'è un'altra. Ma non è possibile. Tu la Kimbo non muori. Ma quanto Suki? Più di una puttana francese Suki. Suki. Suki più danni che una puttana francese Suki. Suki più danni che una puttana francese Suki. Non mi alzano morire in questo giro. Ma era anche il diazì di sotto, non morire. Eh, no. Non è forte figlio. Però il fatto si è tornato a Milano per meno tempo. C'è un'altra. Eh, non c'è un'altra. No, non c'è un'altra. Non c'è un problema. Luca ci tengono. Cosa è andata? No, due alle entrate. Che cazzo? davvero lì è anche uno eh era lì molto male mi hanno fatto il giro mi hanno fatto il giro e mi hanno ricaricato mentre sparavo ma mi sta in culo sto joystick di merda che cosa mamma mia mamma mia ma dai sempre su ma lì hai rischiato ai mobili quelle di là non 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 Ah, ragazza, già, ma è di sotto. Sotto l'anzaro? Sì. E' più scolo. Che cazzo sono ancora? Mmm. Pensate che sono all'entrata. Sì, l'ho visto o no? Arrivano. No, no, non ho l'impressione. Eh, è l'altra parte. L'ho visto? No, com'è l'altra parte. Mamma mia, ho sul cagato d'osso. E' il divino di punti? 8.500. Abbiamo ancora voluto riscaldarsi per recuperare quello che adesso possiamo fare. Sono un attimo a stare. Stare con i cimbrali. Minchia. Eh, ma la pizza che pesa. La pizza che pesa anche sulla testa. Non so, più fermo, più libero. Non devo cambiare un po' di classica. Alla, alla, alla. Alla. Cazzo sono? Non ce la dimenticare. 8. Per un te? Sì. C'è ci non è intrat. Ok. Sì. Sì. Tutti due! Tutti due! Un'altra scatola! Sì dietro! Ecco lì! No! Venga! Un'altra! Miitavano! Non miitavano! Un'altra scattola! Un'altra scatola! Un'altra scatola! Un'altra scatola! Non so, non so. Sempre lì a uscare. Mamma mia. Adesso è così grande l'acqua, inizia. Mamma mia, qua hai sbagliato. Non ho trovato, non ho trovato. Perché ho iniziato a trattare. Un trattato. Un trattato? Stai andando al resto. Eccolo lì. Ma quanto fa male con l'arma? Va hd. Eh, va dentro nel beauty shop e uno che va da... Eh, è robita. E' 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 robita. Stai dietro dall'entrata a destra. Sotto la bomba. Luca! Merda! carabinieri non si fa eh non so cos'è io ero ferito dalla bomba ah ecco ma tu sei Argo è normale il minimo è già l'uno no l'ho ucciso uno l'ho ucciso ti ho ucciso dai c***o c***o l'ho ucciso l'ho ucciso no l'ho visto dove vengo adesso l'ho ucciso con l'IMS ah la buonetta di Baffaro ma sai nooo vengono giù dalla scaletta del pittore mi ha abbracciato 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 ma non so che c***o sia io devo camminare piano se lo devo fare per dare l'arrivo a me ti ho visto che ho visto che ho visto che ho visto inizia a giudare anche loro adesso mi hanno fatto tutto distacco dove è? dove è? è uno ce l'ho qua ho visto la scritta che è sopra l'uomo e te le dagne mi ha abbracciato vieni insonati vieni 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 ah vieni 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 ma non ci credo ma non ci credo quanto faccio cagare Mamma mia! Abbiamo perso il nostro vantaggio! Ancora. Che magari mi sa che non era neanche un vantaggio, non sono fatto i punti sbagliati. Se ancora lì dove era prima, nel mio giuscio l'ho. Ecco nel mio giuscio l'ho. No! Assista! Liberati! Grande! Ammonia, grandissimo! No! Ma c'è un'altra entrata sulle scale mobili! Sta andando verso il beauty shop! Ma no! Perfetto! Perfetto! No! 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 Scusa me! Eh no! Stavo correndo! 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 Vabbè, un nuovo copaccio. Dada, vabbè, vabbè. Uno è entrata. Gli stai un'altra in basso, ce l'abbiamo. Dato, dici, dici, dici. Uno è bene. Due, vabbè, vabbè. In senso il nuovo colpi. C'è una? Può per me entrare qui. C'è l'ho fuori C'è l'ho fuori Tutti mille intratari C'è l'ho fuori Non sapete dove si chiama? Abbiamo compito la dieta Eh, se no non lo faccio finire la sera La dieta un po' Ah, sei morto? Ah, però mi sono girato Mi sono accorto anch'io dopo che eri lì Ah, mi sono girato, mi sono giro Che cazzo che è Oh, caro, non lo vediamo più Non lo vediamo più Non lo vediamo più Eh, quasi Non lo vediamo più E' giusto a sentire Eh, ma io non lo so Si è colpa Questa cacca è tutto il cuore Dio caro Non lo so Ti giuro, non ti vieni 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 Ma io non ti vieni Dicelo al resaio! Lucca ti è in santo linea. Ecco l'oranzone per far scala. Mi prendi la scala più. No. Cosa stai? Cosa stai? Cosa stai? Quanto sei da rosso? Quanto sei da rosso? Non lo sa. Devo recuperarlo. Il prossimo giro che ne avento. Grazie mille per la segolata. Alla prossima. Buona birretta. Si è.